Doppio annuncio di Inter e Marsiglia, dove Valentin Carboni troverà mister De Zerbi. L'argentino indosserà la maglia numero 7.Adesso è ufficiale, Valentin Carboni lascia l'Inter per trasferirsi in Francia, all'Olympic Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Arrivati poco fa l'annuncio dei transalpini e quello del club di OAC3, il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. Tra prestito e opzione, l'OM andrebbe a pagare circa 36 fratto 37 milioni di euro. Il controriscatto in favore dei nerazzurri è fissato invece a 40 milioni. Carboni, al Marsiglia un premio di valorizzazione, l'Inter punta su di lui in prospettiva futura. A Marsiglia in Ligue 1, Carboni, maglia numero 7 per lui, dovrebbe avere quello spazio che difficilmente avrebbe avuto con Simone Inzaghi, nonostante i grandi apprezzamenti pubblici del tecnico interista nei confronti del talento argentino, reduce dalla vittoria della Coppa America con l'Albiceleste. In sostanza l'Inter fra un anno darebbe all'OM una sorta di premio di valorizzazione del ragazzo, su cui ausilio e soci puntano molto in prospettiva futura come conferma la formula dell'operazione. Grazie! 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 Grazie!